Da quasi mezzo secolo ci occupiamo di benessere del corpo e della mente, con aggiornamenti continui e costanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie di ultima generazione, insieme alle esperienze vissute in tanti anni. Oggi più che mai siamo in grado di affrontare ogni tipo di inestetismo, viso e corpo, con trattamenti mirati e prodotti domiciliari di comprovata efficacia, dal percorso benessere ad una accurata selezione di massaggi olistici sensoriali, dedicati alla rigenerazione del corpo e della mente, donna e uomo. Il Centro Benessere Fiorella vi offre un accurato e mirato check-up biomorfologico, che ci permetterà di trovare la migliore strategia per contrastare ed eliminare i fastidiosi inestetismi. A vostra disposizione tutti i servizi beauty, con l'epilazione laser e luce pulsata, make-up, eventi sposa e tattoo semi permanente. Centro Benessere Fiorella, Viale Terracati 51, Siracusa.